Un aumento delle esportazioni farebbe schizzare il PIL italiano di ben nove punti nel giro di quattro anni e quanto emerge dal convegno di Confindustria sull'apertura delle imprese ai mercati internazionali. La Puglia è capofila nel mezzogiorno. Nel 2014 gli affari con l'estero sono aumentati del 5% per un comparto che ha espresso un valore di 6 miliardi di euro di fatturato. Tra i settori in ascesa spicca la metallurgia, il tessile e l'abbigliamento, la meccanica e l'agroalimentare. Oggi però non basta solo piazzare prodotti, servono consulenze ed assistenza sul piano assicurativo e finanziario. Lo scorso anno abbiamo avuto 500 imprese pugliesi che si sono avvicinate a Sace e hanno sottoscritto i propri prodotti e abbiamo fatto operazioni per oltre 300 milioni di euro. Quali sono i settori secondo voi che potrebbero avere una maggiore ascesa nei prossimi anni? A parte quelli tradizionali dell'agroalimentare, del tessile, dei mobili, c'è l'alta tecnologia. Tra le esperienze di successo illustrate al convegno, quello della Mafrat di Putignano, un colosso delle confezioni per bambino nel mondo. Oggi siamo fra il 60 e il 70 per cento di export. Abbiamo cominciato tantissimi anni fa con delle percentuali abbastanza limitate. È proprio la dinamica dei consumi che ci ha portato a privilegiare quelle aree più in grado di poter recepire il nostro prodotto di alto livello.